Ciao a tutti gli amici di Out of Bit, sono in compagnia oggi del mio Note 20 Ultra ed in questa guida cerco di spiegarvi come rimediare all'assenza del LED di notifica come avrete sicuramente notato sulla serie S20 di Galaxy e sulla serie Note 20 non è installato nessun LED di notifica, di fatto nella parte alta del dispositivo non c'era lo spazio sufficiente per attivare questa tipologia di accessorio è una piccola mancanza, forse io ero abituato ad utilizzarlo su tanti altri dispositivi e mi faceva davvero comodo, ci sono però due metodi per andare a rimediare a questa assenza uno è quello di utilizzare l'app LED Minot che crea un piccolo LED virtuale intorno al foro della fotocamera oppure c'è la possibilità di attivare l'illuminazione Edge alla ricezione di un messaggio per utilizzare l'illuminazione Edge bisogna prima attivarla se non è attivata di default basta andare sulle impostazioni muoversi verso il basso e andare su schermo e poi trovare la voce schermo curvo qui in basso da questa voce c'è la possibilità di attivare l'illuminazione Edge tramite il pulsante qui a destra se andiamo a tapparci sopra ci viene invece data la possibilità di personalizzarla e di approfondirne le modalità di utilizzo quindi possiamo scegliere ad esempio i vari effetti di base che vengono utilizzati dallo smartphone quindi si può impostare appunto l'effetto si possono scegliere i colori quindi se la volete verde al posto di blu potete tranquillamente personalizzarla c'è anche la possibilità di gestire le impostazioni avanzate c'è poi la possibilità di scegliere le applicazioni per cui funziona quindi io ad esempio l'ho attivata solamente per i messaggi e per Whatsapp non la volevo per il resto delle applicazioni quindi anche qui potete personalizzarla a piacimento avete infine la possibilità di attivarla o meno quando lo schermo è acceso quando lo schermo è spento o in entrambi i casi il funzionamento è molto utile e piacevole il problema è che alla ricezione di un messaggio lo schermo rimane acceso per pochissimi istanti e poi si spegne in questo caso purtroppo si vede pochissimo perché ho la tanta luce accesa però l'effetto è quello che abbiamo visto dalla schermata precedente che era questo qui mi la faccio di partire l'effetto è questo quindi avete una illuminazione dei bordi laterali del dispositivo che è piacevole però purtroppo come vi dicevo rimane acceso per pochi istanti quindi se avete lo schermo spento e il telefono posato su una scrivania si accenderà subito ma poi non riuscirete a capire dopo due minuti se avete una notifica o meno l'alternativa vera e propria è quella di utilizzare l'app Ledmino la trovate gratuitamente sul Play Store quindi una volta installata vi basta aprirla beh vi lascio il link qui sotto in descrizione dopo i primi passaggi vi ritroverete ovviamente a concedere i vari permessi potete decidere o meno se attivarla quando è attivo l'Always On Display e potete andare a impostare tutti quanti quelli che sono gli stili adesso l'ho imposto velocemente l'avevo disattivata prima del video per mostrarvi come funziona c'è appunto la possibilità quindi di attivare un LED il LED che si va a creare attorno al foro della fotocamera quindi in questo caso ho abilitato il LED e c'è la possibilità di selezionare il colore la modalità di funzionamento in questo caso Note 20 non è ancora disponibile quindi ho scelto Note 10 Plus c'è però poi la possibilità di utilizzarla su tutti gli altri dispositivi Samsung quindi non solo sul Note c'è la possibilità anche di selezionare la forma fra cerchio e rettangolo tutte le altre sono disponibili nella versione a pagamento di cui però non avete particolarmente bisogno ed avete anche la possibilità di impostare tutti quanti quelli che sono i dettagli più avanzati quindi la larghezza dei pixel attorno al foro se volete personalizzarla e molto altro oltre allo stile di base potete impostare il funzionamento quando il dispositivo è in carica in modo tale che vi notifichi lo stato dell'avanzamento della ricarica ci sono poi tantissime altre possibilità di personalizzazione fra cui anche quella di impostare l'applicazione per cui utilizzarla torniamo allo stile di base e vediamo con la deprima dal vivo quale sarebbe l'aspetto di funzionamento eccolo qua andate quindi a creare un piccolo LED di notifica attorno a quello che è il foro della fotocamera quindi adesso se andiamo a spegnere il display si vede poco perché ho tanta luce ma solitamente in condizioni di utilizzo standard si vede molto meglio in questo caso come vedete lampeggia il LED attorno al foro della fotocamera anteriore ovviamente lampeggiano i LED presenti sullo schermo non è un vero e proprio LED di notifica ma è il metodo migliore per andare a colmare questa mancanza quindi come abbiamo visto la possibilità di creare un LED di notifica virtuale utilizzando lo schermo c'è basta utilizzare l'app LED Mino di cui vi lascio il link qui sotto che è un'app gratuita c'è anche la versione appellamento se volete sbloccare tutte quelle che sono le funzionalità avanzate spero che il video vi sia piaciuto se vi sono stato utile vi chiedo cortesemente di mettere un pollice in su di iscrivervi al nostro canale qui sotto e di seguirci anche sui social da Vittorio Tiseo per Autosbeat è tutto grazie e alla prossima